Un matrimonio da sogno, il sogno di tanti che hanno deciso di pronunciare il fatidico sì. Un sogno che per diventare realtà ha però bisogno di consigli e suggerimenti. E al centro commerciale Le Grange di Pedimonte San Germano, oltre 50 espositori hanno messo a disposizione dei tanti visitatori la propria arte nel confezionare matrimoni da favola. Terzo appuntamento per Universo Sposi, terzo successo consecutivo. Ci si sposa ancora nel nostro basso Lazio, è la più grande gratificazione che ci raggiungono da ogni parte del centro Italia. Universo Sposi giunge alla terza edizione, un appuntamento immancabile per i futuri sposi e un mio ringraziamento speciale intanto alla proprietà del centro commerciale Le Grange che ha voluto ancora qui la terza edizione di un appuntamento dedicato ai futuri sposi e soprattutto a chi ha dato a noi ancora fiducia, a noi come organizzazione. Quindi sono tutti coloro che hanno aderito, più di 50 operatori del settore che con le loro idee, con le loro novità hanno proposto qualcosa di originale e di innovativo per i futuri sposi. Tutto sulle ultime tendenze wedding ad Universo Sposi. Moda, adobbi floreali, bomboniere, confetti, catering, casa e arredamento, estetica ed acconciature, liste nozze, intrattenimento e spettacoli, fotografia, ristoranti, viaggi di nozze, auto d'epoca o fuori serie. La formula è collaudata ed ancora una volta ha portato i risultati. Si tratta di prendere un punto di aggregazione come un grosso centro commerciale, creare un evento che unisca la tradizione ed il territorio, coprirlo sotto tutti i profili. E l'attenzione, così come il ritorno di pubblico, sono garantiti. Alle coppie resta solo l'impegno di andare all'altare, perché al resto ci pensa Universo Sposi, che guarda già al futuro. Quarta edizione per il prossimo anno, ovviamente l'appuntamento è come sempre nel centro commerciale delle grange di Piedmonti San Germano per scoprire le novità in anteprima del 2015.